LORIS TECCA C'era un ring montato dei ragazzi che fanno la boxe a titolo così informativo, poi c'era un po' di preparazione fisica e atletica per tutti i turisti, c'è la presenza di Fabio Amini e Luca Bergers che sono gli addetti anche alla boxe a livello pugilistico della federazione Quindi non possiamo perderci questa manifestazione? Assolutamente no, rimarrete veramente soddisfatti, è una bellissima manifestazione, adatta a tutti ma sarà già pieno di gente, perciò vi aspetto perché sarete veramente felici e contenti di passare due belle giornate Bene, quindi saranno in un orario dove c'è fresco? Sì, nel pomeriggio verso le 16-16.30, poi dopo si vedrà, non so Bene, noi ci saremo, no? Ok, sempre uniti ragazzi, vi aspetto tutti Grazie, grazie, grande LORIS Vi aspetto, ciao Ciao, ciao LORIS, grazie, ciao